La sostenibilità ambientale è importantissima in un territorio vasto come quello della città della Piana, terza città della Calabria. Sicuramente è importantissimo, tant'è che noi adesso, proprio in questo periodo, stiamo dedicando molto tempo a quello che è l'aspetto del nuovo PSC, proprio per valutare anche gli aspetti di sostenibilità ambientale e altro. Anzi, potrei dire che se i primi sei mesi della mia amministrazione sono stati caratterizzati come tempo di lavoro dedicato per gli aspetti economico-finanziari, oggi, in questo secondo semestre, gran parte della nostra attenzione è principalmente rivolta proprio a pervenire in tempi ragionevoli ed accettabili al completamento dell'ITER e del PSC. Quindi stiamo dedicando giornalmente grande attenzione, sia da parte dell'assessore Scavelli, ma devo dire anche da parte di tutta la Giunta e di tutti i consiglieri di maggioranza che ci siamo visti già alcune volte proprio per approfondire, avere un'idea unitaria di quello che deve essere lo sviluppo territoriale della città. Sicuramente l'obiettivo è di dare un ruolo differente e l'obiettivo è anche quello di semplificare. La semplificazione, soprattutto procedimentale, se parliamo del Comune di Mezzaterme, interessa poco, perché il Comune di Mezzaterme è tra quelle percentuali minoritarie per le quali vi è stata già l'adozione del PSC. Noi siamo anzi in una fase avanzata di esame delle osservazioni, quindi dal punto di vista del procedimento semplificato e i procedimenti semplificati i sindaci e gli amministratori li accolgono sempre con grande gioia perché purtroppo combattiamo giornalmente invece con le complicazioni burocratiche e normative legislative, quindi da questo punto di vista è sicuramente un giudizio favorevole anche se ne beneficeremo poco. Per il resto, bene o male, si inserisce in quello che era già un po' il quadro territoriale regionale, quindi di un'ipotesi di riqualificazione più che di consumo del territorio, ma diciamo che anche quella che è bene o male il piano e l'idea sulla quale si sta lavorando sulla mezza comunque coincide in larga parte con quelle che sono le tematiche sostanziali di queste riforme.